Musica Buongiorno e bentrovati con l'informazione del mattino di TRG, vediamo le notizie di oggi 8 dicembre 2020. Partiamo come sempre dai titoli dei quotidiani, quello del messaggero dedicato a meno tasse per il ceto medio, recovery piano per ridurre l'IRPEF ai redditi tra 40 e 60 mila euro, il fondo sale a 212 miliardi, oltre metà dei contributi europei per digitalizzazione e green, quasi 20 miliardi a scuola e ricerca. E poi cene, spostamenti e vacanze, ecco le regole di Natale in tutti i quotidiani, ricorrono le domande, le risposte in merito a ciò che è consentito e ciò che non lo è per queste feste natalizie. La nazione e l'Europa si vaccina, l'Italia arranca ed intanto per la prima volta. La stagione della Scala di Milano apre senza pubblico il titolo d'opera, show in mondovisione, costarra della lirica e videoproiezioni. Dal Corriere dell'Umbria, incarichi usati a fini personali, caso Suarez la procura nella richiesta di misure, concorsi alterati, pressioni e dubbi per una fuga di notizie sull'indagine. Andiamo più nel dettaglio nella pagina del Corriere dell'Umbria, sanità, la protesta degli specializzanti. Ieri si è tenuta appunto il sit-in all'ospedale da parte dei giovani medici che hanno protestato a Perugia per il mancato sblocco del concorso con le destinazioni di lavoro. Continuiamo con la pagina regionale del messaggero, valanga di truffe su internet durante i mesi del Covid-19, spariti 400 mila euro con i raggiri per gli acquisti online più denunce. L'ultimo trucco è quello delle griff, la polizia postale blinda il Natale. Caso Suarez a Perugia, ecco come è passato il compito, lo vedremo ampliamente nelle pagine che seguiranno. Da Terni, Digirolamo e la Giunta, la soluzione definitiva, il fatto non sussiste anche per l'ultima accusa. La pagina regionale della Nazione, caso Suarez, pressioni sui testimoni, i vertici della Stranieri chiesero di modificare i verbali, la Juve ostacolò le indagini, tutti i retroscene ed intanto il quotidiano La Nazione propone il reportage esclusivo della cronista del quotidiano appunto nei reparti dell'emergenza dentro la trincea. Continuiamo con le notizie sul nazionale, la vaccinazione anti-Covid Italia in ritardo, così la terza ondata ci colpirà più degli altri. Oggi parte infatti in Inghilterra, a inizio gennaio Francia e Germania, noi siamo indietro di settimane. Bassetti dice acceleriamo o saranno guai. La campagna vaccinale prevede le prime dosi disponibili da gennaio-febbraio. Vi saranno ovviamente delle categorie prioritarie, vediamole nel dettaglio. Operatori sanitari, operatori sociosanitari, anziani nelle RSA, personale RSA anziani e gli ultraottantenni. A seguire altre categorie prioritarie come persone in servizi essenziali, personale scolastico, forse dell'ordine, persone di 60-80 anni e eventuali aree di focolaio. E a seguire la vaccinazione di massa perché l'obiettivo è l'immunità di gregge, 40 milioni di vaccinati. Proseguiamo con ancora le notizie del nazionale. Spostamenti a Natale, multe, visite ai genitori. Ecco le risposte senza scampo del governo. Confermata la linea dura dagli anziani un solo parente per assisterli. Famiglia in auto fuori dal comune, multa a ogni componente. Le domande e le risposte in merito a ciò che ha consentito e ciò che no. Evidentemente gli ultimi di PCM continuano a creare dubbi nei cittadini italiani. Taglio IRPEF, cantieri e bonus da 200 miliardi. Italia Verde e digitale con i soldi dell'Unione Europea dell'Europa. Dalla ricerca alle infrastrutture, ecco come il governo vuole spendere le risorse del Recovery Fund. Tasse, una mano al ceto medio. Pressione fiscale, taglio dell'IRPEF ai redditi medi, parità di genere, asili più efficienti, aiuti alle donne. Ristrutturazioni, bonus 110, strutturale è il volano del rilancio. E ancora editoria 5.0, transizione digitale, ecco gli incentivi. Giustizia, assunzioni di massa di addetti e magistrati, innovazione, banda ultralarga, addio digital divide, mobilità dalla cura del ferro alle navi sostenibili. Dalle pagine del nazionale anche le città umbre di Assisi e Gubbio. Il blu di Giotto accende la basilica di Assisi, una luce nella notte per educarci alla vita. L'immagine dell'affresco del presepe, proiettata sulla facciata, fonde arte, tradizione e tecnologia per trasmettere la gioia della festa. Nonché la pagina relativa a Gubbio e l'albero da Guinness, il monte si è illuminato con i suoi oltre 700 punti luce, anche bocelli per accendere Firenze. Ma continuiamo con il Corriere dell'Umbria, con la pagina del regionale, incarichi accademici usati come merce di scambio. La ricostruzione della procura sui vertici di uni stranieri indagati, concorsi alterati per favorire i candidati interni. Le pressioni, la prorettrice rifiuta di aiutare Spina e Grego Bolli va a deporre dai PM. Le bugie di Chiappero e Paratici e il dubbio sulla fuga di notizie. I magistrati ipotizzano che la Juve abbia mollato l'acquisto del pistolero perché avrebbe saputo dell'esistenza dell'indagine. Cambiamo argomento, la circolazione del virus è ancora alta. La virologa Daniela Francisci, attenzione al Natale, la terza ondata metterebbe in ginocchio il Paese. Il bilancio dell'infezione della giornata di ieri, 65 nuovi positivi registrati dalla dashboard regionale su circa 700 tamponi eseguiti. I deceduti salgono a 468, mentre i ricoverati sono 395, di cui 56 in terapia intensiva. Continuiamo con il Corriere dell'Umbria, due Paesi divisi tra più comuni. Natale paradossale al Trasimeno, Borghetto si è sviluppata tra Tuoro, Castiglione e Cortona, Ferretto tra Umbria e Toscana. Squarta no ai divieti nei giorni di festa. Il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, ha annunciato una mozione per rimuovere i divieti di spostamento tra comuni previsti dal governo per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Da Orvieto, lo strano caso di Allerone e Castelviscardo, anche le strade a metà, il sindaco Basili racconta la quotidianità. Lo shopping natalizio parte a rilento. Il presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini, afferma alla gente ancora paura, ma essere tornati in zona gialla dà speranza. Commercio in crisi marcia indietro sulla decisione di posticipare i saldi, serve liquidità alle imprese, si partirà il 5 gennaio. Le truffe online sono aumentate del 32% in un anno, raddoppia il numero dei denunciati, 185 nel 2020, potenziati i controlli della Polizia Postale. Siamo al messaggero Covid, 8 vittime e 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Prosegue la fase discendente dei contagi, ma per ora restano stabili i dati ospedalieri. Censiti 68 casi a fronte di 377 tamponi. Scusate, prima ho invertito le cifre, ma non cambia l'incidenza settimanale. Rivoluzione partecipate, dieta ferrea per tutte e d'ora in poi obiettivi chiari. Nel 2020 è stato risparmiato un milione, nel 2021 obiettivo simile. Le storie dell'emergenza, Covid e acquisti online, boom di truffe, lo abbiamo appena detto, più 32%, spariti 400 mila euro. Sotto emergenza, più clicche, più affari sporchi, la Polizia Postale mobilitata anche per le feste. Continuiamo con il caso Suarez anche dalle pagine del messaggero. Luis, ecco il testo dell'esame, incastrati dal PC della Prof. La Procura trova la prova regina, domande e risposte inviate giorni prima, la recita e i debiti di riconoscenza. I dubbi di Cantone su altre certificazioni. Nel mirino dei PM anche le selezioni di quattro ordinari. Intanto Rettrice, DG e i due professori preparano la difesa. Un'istra, arriva un reggente, il Comune afferma è necessario l'intervento del Ministero, la Prorettrice Gambini e l'appello al personale. Dimostriamo la solidità dell'istituzione. Dura presa di posizione di Palazzo dei Priori e gli studenti puntano il dito sui concorsi. La Nazione, il nostro viaggio oltre la cortina del Covid. Certe storie fanno male e non ci lasciano mai la cronista Erika Pontini nei reparti dell'emergenza. La vita quotidiana di operatori e malati ha le prese con l'esperienza più drammatica della loro vita. Ci sono pazienti che hanno paura di addormentarsi per non svegliarsi mai più. Queste le testimonianze di Matteo Pirro, mentre Paolo Groff dice Abbiamo anche intubato al pronto soccorso in emergenza in attesa di un trasferimento. Continuiamo dicembre, la strage continua ma i positivi scendono sotto 6.000. Già 51 le vittime in sei giorni. In Umbria tornano a crescere i ricoveri e il tasso di contagiosità della domenica. I numeri erano lo scorso 29 ottobre, quando gli affetti al Covid in Umbria erano 5.526. L'ospedale con più pazienti ora è terni. La campagna in Umbria, farmacie, la prova del saturimetro. Mentre si preparano al rientro 16.000 studenti delle scuole medie, negli autobus, negli scuolabus calano però le presenze. Rispetto allo scorso anno, 15-20% in meno di alunni, con un tasso di riempimento pari al 70%. Nuove strategie per far emergere rapidamente eventuali focolai nelle scuole. La regione vara le regole. Negli ultimi anni gli iscritti al servizio erano 1.700 su Perugia, mentre adesso sono scesi ad appena 1.400. L'appello di Squarta, lo abbiamo detto poco fa, a Natale rimuovere il divieto sui comuni, il governo ci ascolti. Il presidente dell'Assemblea legislativa chiede sostegno ai sindaci e alle forze di minoranza. A Bettona screening a tutta la popolazione. Il secondo comune Umbro per numero di contagi da Covid ogni mille abitanti e un tasso di letalità del 2,38%. I promotori di questo screening, il professor Gabriele Cruciani, docente dell'Ateneo, ha lavoro proprio sul Covid-19. Continuiamo. Romizzi a gamba tesa a cambiare la governance. Il sindaco chiede un urgente avvicendamento dei vertici della Stranieri. Riteniamo auspicabile un coinvolgimento del Ministero dell'Università. Gli studenti intanto affermano l'Ateneo si impegni a recuperare il proprio buon nome con un ricambio nei ruoli apicali. La lettera al personale, la pro-rettrice, chiama il Ministero e convoca il CDA. Parliamo di Daniela Gambini che è rimasta a guidare l'Ateneo dopo la bufera sui vertici. Continuiamo con lo scandalo. Questi pensano che l'Ateneo è cosa loro. Un docente al telefono fa i concorsi a quelli che l'hanno votata. Gli esposti dell'ex DG, gli indagati, hanno fatto pressioni sui testimoni. Le carte da correggere, Grego Bolli e Spina, volevano modificare le bozze dei verbali per i dottorandi. La richiesta dei PM esercitano funzioni istituzionali, perseguendo fini personalistici. Paratici, gravi condotte di inquinamento. Il nodo Juventus, indagato, anche l'avvocato del club, la procura ipotizza che sapessero dell'indagine. Le storie maledette, questo è il titolo della pagina, dedicata a Rudy Guede, un normale primo giorno di libertà. Delitto Meredith a Viterbo Guede ha iniziato a vivere i suoi ultimi 12 mesi di pena senza dover rientrare a dormire in carcere. Amanda intanto è scontenta perché la Nox se la prende con una nota serie tv che non l'avrebbe consultata prima di una puntata incentrata sul suo caso. La rissa mortale di Bastia Umbra, il ragazzo estradato fa scena muta, Valentina George Neculai, si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice nell'interrogatorio da remoto, la polizia, regali online, sì, ma attenti alle truffe. Una guida con consigli e suggerimenti per acquistare in rete senza rischiare di cadere nei raggieri. Sotto i riflettori della pagina regionale, anche l'albero di Natale di Gubbio, luce di speranza, torna ad illuminarsi sul Montengino, uno dei simboli più potenti delle festività. 8 chilometri di fili elettrici che donano grandi emozioni. Nel Guinness dei primati la sua fama precede addirittura quella del celebre collega del Rockefeller Center. In merito all'accensione dell'albero di Natale e alla lunga diretta che si è tenuta ieri ovviamente su TRG che andrà in replica oggi pomeriggio a partire dalle 14, vi riproponiamo le parole di colei che accese l'albero di Natale nel lontano 2001. Parliamo dell'amatissima attrice e showgirl Maria Grazia Cucinotta. Se c'è un problema magari continuiamo, la regia mi dirà più avanti quando procedere. Continuiamo allora con la pagina della Nazione ripartendo dal locale con le notizie su Perugia. Trinità giorni da incubo, vivo con la pistola in casa. Continuano i furti e tentati raid nelle abitazioni, hanno messo in sobboio i residenti. Alcuni abitanti dicono di avere, di possedere un'arma ma c'è chi frena e dice non esageriamo. Ed intanto super bonus la linea del lancio Perugia, spaccia, meno burocrazia necessaria la proroga triennale. Via fonti coperte, l'appello ironico della circoscrizione. Mister Pino, vogliono abbattermi. Ed intanto scuola dell'obbligo, l'alternativa, Università dei Sapori, i corsi gratuiti. Mentre dalla fondazione, il francobollo 2020, appartiene ad un dipinto, ad un celebre dipinto della fondazione, appartiene alla prestigiosa collezione della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. L'immagine del francobollo religioso dedicato al Natale, emesso dal Ministero dello Sviluppo e da poste. A Tuoro, oggi si riaccende l'albero del lago, staffetta con una torcia da tuoro fino a Isola Maggiore per far risplendere le suggestive e simboliche luci. Dal Trasimeno ancora a Magione, servizi ginecologici tra ritardi e proteste servono soluzioni. Piegaro su Pietrafitta, il PD replica alla Lega, c'è sinergia istituzionale, monito a chi non fa altro che passare il tempo a scrivere sui social. Da Magione risistemata la rete fognaria a San Feliciano, interventi per il deflusso dell'acqua piovana. Città della Pieve, open day virtuali al Calvino, genitori e studenti potranno seguirli dalla propria casa. Continuiamo su Assisi, due bandi contro la crisi Covid. Il Comune vara a noi insieme, Family Tech, per contrastare il disagio economico e il divario digitale. Mentre dalla città di San Francesco ancora la città diventa un grande presepe. Giochi di luce su edifici simbolo si potrà seguire tutto in tv e in streaming. Da Vassia Umbra, luci e negozi 2.0, il Comune punta sulla speranza. Il sindaco Paola Lungarotti afferma la vetrina virtuale è stata creata per incentivare gli acquisti nella nostra città. Da Todi ecco via degli artisti, tentazioni di bellezza ad un prezzo abbordabile. Idea mostra nelle gallerie vicine al Duomo, in evidenza oggetti di gusto e fascino da 500 euro a scendere. A Gubbio, il negozio sotto casa ora è virtuale. Ecco Gubbioshop.com, piattaforma che permette alle attività del territorio di entrare nella vendita online. A Sigillo un'anziana donna si perde, grande dispiegamento di forze per riuscire a trovarla. Fortunatamente però la buona notizia è arrivata, è stato un familiare a ritrovare l'anziana in buone condizioni. Guadotadino, Comune Confcommercio aiuti alle attività economiche. Il sindaco Presciutti e il presidente Aurelio Pucci hanno definito i possibili interventi riguardanti la fiscalità locale. Mentre a Nocera Umbra, il liceo delle scienze umane, l'Umbria parla con l'estremo oriente. Gli studenti hanno simulato l'esame da sostenere dopo il corso col prof Takeshi Toio. Città di Castello ad Escava, minorenni su Facebook, condannato. Si tratta di un 42enne campano che si spacciava per un ragazzino con un finto profilo a scoprirlo. Fortunatamente una madre. Messaggi a una 12enne, la denuncia appunto di una mamma alto-tiberina che ha fatto immediatamente scattare le indagini. Stasera in piazza alle ore 19.30 l'accensione delle luminarie con la danza. Dobbi in sinergia con i rioni di San Giacomo, Prato e Mattonata e con le associazioni del balletto della città. Ad Umbertide è stato inaugurato il nuovo ponte ferroviario. Realizzato in ferro ricade sulla linea Umbertide-Sansepolcro nella tratta per Monte Castelli. Costo un milione di euro. La fase di installazione del nuovo ponte ferroviario, in foto, cui hanno preso parte anche una trentina di tecnici. Ora stop ai rallentamenti. La vecchia struttura verrà eliminata a breve nel 2013. L'incidente in cui rimasero lievemente feriti 23 passeggeri. Sempre da Umbertide, un Natale nel segno della luce, luminarie in piazza Matteotti dove verrà acceso il grande abete. Ma anche nelle vie del centro. Ancora open day virtuali nelle scuole del primo e secondo circolo. Il calendario degli incontri online. Primi appuntamenti l'11 e il 14 con la Garibaldi. A seguire tutte le altre. Ci spostiamo su Foligno. Fenomeno Rambo Smash. La rete parla. Folignate spopolano nel web i doppiaggi dialettali di film famosi firmati da Andrea Rambotti che ha 38.000 follower su Instagram e più di 50.000 su Facebook. Iniziative della Valle Umbra Servizi raccolta rifiuti in distribuzione. I nuovi calendari personalizzati da Giano Dell'Umbria, scuola di Fabri, dall'abbandono al restyling. La soddisfazione del sindaco Petruccioli e dell'assessore Barbareto. Da Spoleto commissariato sede inadeguata. Il sindacato autonomo di polizia caldeggia il trasferimento nei locali della vicina scuola di polizia. Ed intanto l'arcivescovo Boccardo ha anticipato alle 18 la messa di Natale. Ancora da Spoleto, Bori e Paparelli. Forti timori per la sorte dell'ospedale spoletino. Sollecitate certezze sul mantenimento dei servizi del San Matteo degli infermi. A Norcia un motociclista è rimasto bloccato dalla neve ma è stato soccorso dai vigili del fuoco. A Foligno, Calcio, le società di serie D battono cassa lettera congiunta al ministro. Appello per arginare i problemi creati dall'emergenza Covid. Siamo a Terni. Intervento oncologico in forma combinata. Innovativa procedura all'ospedale Santa Maria. 11 ore in sala operatoria per una paziente sottoposta a trattamento di chirurgia digestiva e ginecologica. Sempre in tema di sanità, vertice con i sindacati dei medici, l'incontro in comune, RSU sulle barricate, nuovo sit-in di protesta alla Treofan. Nel frattempo il centro storico, la riapertura della ZTL divide la maggioranza. Sempre da Terni, di scarica di valle, tutti assolti, il fatto non sussiste, scagionati l'ex sindaco di Girolamo ed altri 16 imputati dalle presunte irregolarità. Ad Orvieto serve un albo per tutelare le botteghe storiche. Il consigliere Stefano Limpieri va sostenuto alla riqualificazione delle attività. Il progetto prevede che queste imprese commerciali potranno e dovranno essere scensite e sostenute in modo concreto. Ancora da Orvieto il fascino della città sotterranea, riflettori TV sulle festività umbre, anche le grotte orvietane tra le bellezze raccontate nei viaggi del cuore. Continuiamo con Terni, l'iniziativa di solidarietà, Natale nel cuore, buoni spesa sotto l'albero. Ed ora ci spostiamo con le notizie partendo dal Corriere dell'Umbria su Perugia. Torniamo quindi in provincia, noi medici impegnati in prima linea ma senza alcuna certezza sul futuro. La protesta degli specializzanti davanti al Santa Maria della Misericordia per il mancato sblocco del concorso. Ancora da Perugia, bar e negozi aperti nonostante i divieti, 5 maxi multe dai controlli di ieri degli agenti della polizia locale. Sono emerse diverse violazioni, consumazione al bancone dopo le 18 e vendite vietate in un centro commerciale. In centro tentano di sfuggire al controllo della polizia ma la volante gli trova eroina addosso. Due dei quattro ragazzi sono stati segnalati dalla prefettura, quali assuntori. Corso bersaglieri come San Gregorio Armeno da oggi fino al 6 gennaio immostra 12 presepi, di cui 8 monumentali nella storica via del quartiere di Portapesa. In breve l'iniziativa, buoni da spendere nel Borgobello, la ricorrenza, non la concetta, spegne 102 candeline. Si accende il Natale, un segnale di speranza al lago Trasimeno, luminarie da ammirare a Castiglione, città della Pieve, un momento difficile ma si mantengono le tradizioni. A Tuoro oggi dopo dieci anni torna la vete di luci a Isola Maggiore. Presepe è monumentale, riprodotto anche l'albero disegnato sul lago. Da città della Pieve è organizzato un open day virtuale al Calvino, l'Istituto Superiore si è organizzato in vista delle iscrizioni. Da Piegaro basta scontri, collaboriamo per la Val Nestore. PD di Piegaro e Panicale e CGL intervengono sulla centrale di Pietrafitta. Continuiamo con Assisi. Il Metastasio riaprirà in primavera. Proseguono i lavori da un milione iniziati a luglio. Portate alla luce alcune decorazioni ottocentesche a disposizione del pubblico, all e ridotto a piano terra. Non ci sarà più la divisione tra galleria e platea. A Bassia Umbra gli alunni imparano a riciclare i rifiuti elettronici, laboratori online organizzati da Gesenno grazie anche al testimonial Raimondo. Da Bettona, test per il Covid a tutti gli studenti. Il Comune ha allestito un punto drive-in allo stadio con la protezione civile. Da Assisi, ZTL chiusa per gli eventi del Natale. Novità anche per i parcheggi, quello di Piazza Matteotti sarà gratis dalle ore 17 alle 20. Ci spostiamo su Marsiano, via web si insegna a degustare il vino. Quattro cantine hanno unito le forze per far conoscere attraverso una diretta Facebook le produzioni locali. Brindisi a volontà, bottiglie prenotate con tanto di calici, spazio ai rossi, appuntamento a distanza, sabato alle ore 18.30. Da Todi addobbi da 54 mila euro, uno spreco di denaro, sindaco e giunta nel mirino dei Cinque Stelle. Continuiamo con Città di Castello, ristoratori si uniscono e aprono insieme. Quattro titolari di ristotrattorie e del centro storico gestiranno fino all'Epifania uno spazio comune. La Municipale intanto multa tre attività all'interno di centri commerciali perché non potevano alzare le saracinesche di domenica. Linea Umberti del Sansepocro, lo abbiamo detto prima, è in realtà il nuovo ponte ferroviario in ferro. Città di Castello adesca una dodicenne su internet, condannato a due anni di reclusione. Continuiamo, l'albero si accende per la quarantesima volta, è toccato al sindaco e ossirati. Stiamo parlando ovviamente di Gubbio e al vescovo Paolucci Bedini, illuminare il Montengino, spettacolo fino al 10 gennaio. Ed ora chiedo alla regia sia pronto il servizio di cui vi parlavamo prima, ovvero le parole di emozione dell'attrice showgirl che accese l'albero di Natale nel 2001 Maria Grazia Cucinotta Allora siamo in collegamento con Maria Grazia Cucinotta che è stata una delle testimonial dell'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio attrice famosissima, amata dagli italiani e non solo Nel 2001 questa accensione dell'albero, se la ricorda Maria Grazia? Per me è stata e resterà indimenticabile perché era appena nata mia figlia ed è stata la prima volta che la lasciavo per andare ad accendere questo che è veramente emozionante perché sapere di accendere l'albero più grande del mondo, ma non è soltanto l'accensione dell'albero più grande del mondo è il messaggio più bello perché comunque inizia il Natale, inizia il periodo della famiglia, dello stare insieme inizia un momento magico dove comunque è un'atmosfera veramente dove ritorni bambino ognuno di noi ritorna bambino È proprio vero, lei negli anni poi però ha conservato un bel rapporto con Gubbio non si è fermato lì la sua esperienza con questa città No, assolutamente, a parte l'amicizia con la famiglia, con l'Aliacono che per me sono degli amici cari poi ritorno spesso perché comunque si sta bene, ho tanti amici e comunque c'è una parte molto viva perché comunque si lavora però si è mantenuto anche quel senso della vita vera, della famiglia, del cibo buono, delle tradizioni tutte quelle cose che sembrano piccole cose ma sono quelle piccole cose che ti rendono felice, che ti rendono viva Ecco, questo è stato un anno complicato e quindi l'albero di Natale di Gubbio diventa in qualche modo questa accensione davvero ancora di più un simbolo di speranza sia in un Natale che possa essere più sereno ma anche in un 2021 Le chiediamo proprio in questa occasione un suo pensiero e anche un augurio L'augurio è che si possa ritornare alla normalità che tutti quelli che stanno soffrendo perché il lavoro non c'è, perché tanti ristoranti, alberghi tante attività, teatri, cinema sono chiusi si possa ritornare a vivere una vita normale si possa ritornare a lavorare, a poter lavorare tutti tranquillamente ed essere felici E questo ci sembra l'augurio migliore, la ritroveremo a Gubbio se possibile in tempi brevi? Ma in tempi brevissimi, io mi auguro veramente di ritornare appena è possibile e il prossimo anno di accendere quell'albero proprio dal vivo Bene, allora estendiamo l'invito già noi Eccoci di nuovo, siamo al Corriere dell'Umbria, Gualdo Tadino mattina in didattica a distanza e pomeriggio in negozio così Edoardo realizza cappelli per tutti il diciottenne artigiano ha aperto un temporary store in centro con l'aiuto di amici e genitori Patentino di robotica all'istituto Sigismondi di Nocera Umbra a sigillo scompare da casa trovata da un parente Gualdo Tadino a cartiere chiuse, primaria e infanzia Continuiamo con la pagina del Corriere dell'Umbria spostandoci su Foligno Artigianato, chiuse, 32 piccole imprese la peggiore crisi degli ultimi dieci anni in appena sei mesi l'emergenza ha fatto crollare i fatturati del 50% interviene Morris Fiorelli Ancora da Foligno il borgo di Rasiglia sul piccolo schermo appuntamento questa sera 20 e 20 su Real Time con il programma cortesie per gli ospiti scontro tra due automobili ferita una donna di 35 anni ed intanto i vigili del fuoco fanno 170 interventi al mese nel bilancio dell'anno emergono 61 persone salvate e 144 incendi domati 20 dei quali hanno riguardato abitazioni cambio alla guida del distaccamento Marco Corradini subentra a Valtiero Tampieri l'iniziativa servizio wifi in tutto il centro per quanto riguarda la denuncia che vedete a centro della pagina autovetture in sosta selvaggia lungo la ciclabile di Viale Firenze parco col fiorito in distribuzione 500 calendari da Spoleto famiglie in difficoltà aiuti per 143 mila euro bonus per acquistare generi alimentari e medicinali in negozi convenzionati con il comune avviso pubblico contributi determinati dalle graduatorie sono pronti 950 mila euro per il completamento della Spoleto Norcia serviranno a rendere pedalabile il tratto di 7,5 chilometri che da Casale Volpetti conduce a Serravalle di Norcia finanziamento della regione un'arma in più per il rilancio del territorio e da Scheggino strada comunale il tar blocca a gara da 25 mila euro criteri sbagliati e procedura tutta da rifare accolto il ricorso di uno studio tecnico ancora da Spoleto pronti nuovi calendari per la raccolta differenziata avviata la campagna informativa della VUS da Terni viabilità e campo sportivo i problemi di San Carlo il quartiere è una delle porte di accesso a Terni per chi arriva da Spoleto lungo la Flaminia bivio imboccato contro mano una costante in un quarto d'ora abbiamo contato ben 5 infrazioni problema verso la soluzione a primavera verranno infatti realizzate due rotatorie a regolare il crocevia appalto per lo smaltimento del percolato assolti di i 17 imputati del processo alla sbarra erano finiti i componenti delle due giunte comunali guidati da Leopoldo di Girolamo carcere di Sabbione dal DAP ad ogni agente penitenziario 10 mascherine chirurgiche e 10 FFP2 il mercato del mercoledì resta allo Staino rinviato il previsto spostamento al centro prima delle feste di Natale se ne riparlerà dopo il 15 gennaio commercianti rivisi uscita allo scoperto una frangia di ambulanti che vuole però restare dove Natale più sereno per 175 famiglie grazie all'aiuto di Terni col cuore l'associazione benefica voluta dal patron della Ternana Stefano Bandecchi presenta un nuovo progetto e una nuova donazione ovvero pronti i buoni pasto e buoni spesa da utilizzare durante le feste il presidente Tagliavento ogni mese ne mettiamo a disposizione per 25 mila euro orvieto dipendente positivo chiusi gli uffici comunali arci Terni consulenza gratuita per i buoni spesa e sempre da Terni intervento chirurgico di 11 ore al Santa Maria per rimuovere un tumore la delicata operazione è stata svolta dall'equip di chirurgia digestiva diretta dal dottor Amilcare Parisi in collaborazione con la struttura di ginecologia e ostretiricia in foto l'equip che ha operato Gola del Nera da Narni pratiche chiuse entro l'anno manca ormai solo mettere nero su bianco l'acquisto delle aree delle ferrovie dello Stato operazione slittata a causa del Covid concluso questo passaggio formale si potrà pubblicare il bando per la gestione per averla operativa in estate orvieto senso unico per lavori domani a Ciconia striscione per la liberazione dei pescatori da Parrano buoni spesa del comune fino a 500 euro ed intanto da Amelia Palazzo Petrignani ed ex poste da valorizzare Italia Nostra denuncia l'insufficiente utilizzo dei due immobili storici e sempre da Amelia via Roma strada ad alto tasso di pericolosità denuncia dei residenti le auto sfrecciano e una curva oscura la visuale ci spostiamo con le notizie locali del messaggero ripartendo da Perugia Piazza Matteotti la luce è giusta poi l'intervento sui campanieli la nuova sfida riguarderà il Palazzo delle Poste ora tocca alle chiese e non solo il centro storico è come se i monumenti storici della città tornassero a nuova vita al Borgobello shopping con i buoni online mentre via 20 settembre così le luminarie diventano sfida per un futuro migliore dalla provincia la Caritas da soli non ce la facciamo l'assistente sociale Bagnarelli 20 persone al giorno vengono a chiedere aiuto il prossimo anno però può essere perfino peggiore in difficoltà sempre più anziani più italiani anziani e ci sono anche gli studenti universitari c'è anche tanta necessità di ascolto ciascuno deve fare la sua parte siamo chiamati ad essere samaritani droga in tasca a 18 anni ragazzina finisce nei guai multati anche gli amici arrivati da fuori comune incendio a Gualdotadino in un appartamento i vigili del fuoco salvano un cagnolino fondazione Lorenzini i talenti premiati con le borse di studio dal governo invece ecco 17 milioni per i nuovi bus ci spostiamo su città di Castello esposto per barriere architettoniche partita dalla città il Fittifernate la richiesta di intervento del difensore civico regionale che sarà estesa a tutta l'Umbria si muovono le associazioni il mosaico e il cuor di leone scelto il luogo simbolo dei disagi per i portatori di handicap Assisi oggi si accende il Natale c'è anche la messa con Gambetti Gubbio ha acceso l'albero dei record stavolta l'emozione corre sul web da Todi la direzione didattica adesso deve trovare una nuova sede Foligno nuova palestra al polo scolastico il vice sindaco afferma le cose stanno così a Mismetti dico che per la pista di atletica siamo in dirittura d'arrivo raccolta differenziata arrivano i calendari il Foligno scrive a Spadafora ci dia un sostegno per la serie D continuiamo con Spoleto ex Spoleto Norcia un milione per completare il recupero lo stanziamento per il tratto centrale da Casale Volpetti a Serravalle danni alla scultura paga il comune a 46 anni arriva sul trono d'Europa di kickboxing parliamo di Mirko Gori che riscrive la storia da Terni, Luci, Presepi e Web quel che resta dei riti delle feste la città prova a ritrovare un po' di normalità negozi aperti e l'accensione della stella di Miranda premiati i sanitari ZTL aperta la maggioranza va in frantumi la Lega chiude la porta in faccia agli alleati paura per un bimbo il rebus covid ritarda l'intervento per appendicite il piccolo di soli 8 anni è risultato prima negativo poi positivo ed è stato operato d'urgenza ora fortunatamente sta bene Terni col cuore a Natale nessuno resterà solo ci vediamo fra poco per la pagina spoglietta